3500 avanti Cristo, il fiume Nilo. Questa maestosa arteria d'acqua comincia a plasmare una civiltà destinata a diventare leggendaria. Il suo viaggio inizia nel cuore dell'Africa, fluendo attraverso deserti e valli, diventando la forza vitale per l'emergente cultura egizia. Il Nilo, con i suoi ciclici e generosi doni annuali, crea una striscia di fertilità nel deserto. Ogni anno, come un orologio cosmico, le sue piene depositano strati di limo ricco e fertile lungo le sue rive. Questo fenomeno naturale trasforma una stretta striscia di terra in una delle regioni agricole più ricche del mondo antico. Questa terra generosa permette alle prime comunità di estrarre tutto ciò di cui hanno bisogno per prosperare. Il grano, l'orzo e il lino crescono in abbondanza, supportando una popolazione in rapida crescita e la formazione di società complesse. Il fiume non è solo una fonte di sostentamento, ma diventa anche una via di comunicazione e commercio, collegando diverse comunità lungo le sue rive. Man mano che le comunità crescono e si evolvono, emergono centri di potere lungo il Nilo. Questi insediamenti gettano le basi per quello che diventerà uno dei più grandi imperi dell'antichità. Mentre il sole sorge e tramonta sulle acque del Nilo, la storia dell'Egitto comincia a prendere forma, una storia che sarà raccontata nelle pietre dei templi, nelle pagine dei papiri e nel cuore di una civiltà che ancora oggi affascina il mondo intero. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti i prossimi contenuti. Grazie.